Le mie dissoddisfazioni ce ne siamo tolte tante, più che altro ci siamo divertiti che è la cosa fondamentale perché vincevamo e ci divertivamo e penso che sia una cosa impagabile. Giocano ma secondo me si divertono poco e noi moriremo in un campo perché è il nostro destino. È una passione indelebile, bello, bello, bello. Oggi hanno fatto una cosa stupenda, speriamo che si possa ripetere perché è stata bella. Abbiamo incontrato amici che erano 40 anni che non vedevamo, di conseguenza un po' di emozione ci è stata per forza. Poi in campo logicamente è scomparso. Devo dire la verità, vittorie al Palasport sono state entusiasmanti, entusiasmanti veramente. E poi quando abbiamo vinto con Mauro il campionato col San Desiderio, ma perché proprio ti devo dire, perché ogni volta che scendevi in campo era una gioia, un divertimento e poi vincevi logicamente perché effettivamente a quel livello eravamo bravi, però soprattutto era un entusiasmo che ci legava che oggi non vedo più. Ma io non ho mai smesso, ho continuato a giocare fino adesso, compatibilmente con la mia età certo, però smettere qualcosa di lontano, a 65 anni penso di avere ancora una carriera davanti.